Allora innanzitutto buongiorno a tutti, grazie ovviamente di essere qui. Io sono portavoce del gruppo scientifico di Ispra, nel senso che questo progetto nasce da un'idea di Matteo Lener che come avrete capito è un ciclista appassionato, ma lavorando in Ispra e quindi lavorando nell'ambiente ha avuto questa idea e io insieme ad altri colleghi gli abbiamo dato praticamente un supporto scientifico perché questo è stato il nostro ruolo. Quindi nei minuti che ho a disposizione vi racconterò qual è stato il ruolo di Ispra nel progetto e ovviamente con particolare riferimento alla rete Natura 2000. La dottoressa che ne ha preceduto ha ovviamente parlato dell'AIF, forse non tutti sanno che l'AIF è l'acronimo francese per lo strumento finanziario per l'ambiente, si divide in due grosse linee d'azione che sono il sottoprogramma per l'ambiente e quello per l'azione per il clima e il nostro progetto in particolare è stato inquadrato nel LIFE di governance ambientale e informazione. È stata una scelta praticamente naturale perché gli obiettivi del progetto erano esattamente quelli che la comunità richiedeva, la comunità europea, per il finanziamento del progetto. Promuovere una partecipazione attiva e consapevole alla conoscenza della rete, sensibilizzare i cittadini su significato e ruolo della rete Natura 2000, promozione ovviamente di comportamenti ecosostenibili e parliamo del turismo, scusate, del turismo sostenibile e del ciclismo, formazione di una cittadinanza attiva nella conoscenza e monitoraggio dell'ambiente e ritorna a quello che diceva il collega Ciccarese e quello al quale teniamo anche molto è la formazione di un modello collaborativo tra cittadini e governance ambientale. È ovviamente necessario, mi dispiace se c'è un pubblico di esperti che magari già conoscerà questo tema, ma come già è apparse evidente negli interventi precedenti, non tutti conoscono quello che è il sistema delle aree protette nazionali che è costituito da due grandi blocchi, le aree protette terrestri scritte all'elenco ufficiale delle aree protette, un po' datato è del 2011 ma dovrebbe uscire tra poco l'elenco aggiornato, e la rete Natura 2000. Questo sistema delle aree protette terrestri, è ovvio che parlando di un progetto di bicicletta non consideriamo le aree protette marine, che sono comunque anche una realtà ovviamente importante, copre il 21,6% del territorio nazionale, ma mentre se noi parliamo col cittadino comune sicuramente conoscerà almeno un tipo delle aree protette EUAP, saprà che cos'è un parco nazionale, un parco regionale e comunque parliamo di un patrimonio di 845 siti allo stato attuale, molto difficilmente conoscerà la rete Natura 2000. Ed è un peccato perché è il principale strumento che la comunità europea mette in atto per creare la rete ecologica e proteggere habitat naturali e seminaturali di specie flora e fauna minacciati e rare a livello comunitario attraverso l'attuazione di misure specifiche. I siti Natura 2000, altro di particolare importanza anche per la scelta dei partner di questo progetto, è che in base all'articolo 2 della direttiva Habitat, i siti Natura 2000 garantiscono la protezione della natura tenendo anche conto delle esigenze economiche, sociali e culturali e della particolarità regionale e locale. La rete Natura 2000 a livello europeo, come era stato già accennato, rappresenta un quinto della superficie terrestre e più di 250.000 km2 di superficie marina. Il primo messaggio importante che con un progetto di comunicazione live vogliamo trasmettere è che il concetto di area protetta che nell'addizione comune è un qualcosa di intoccabile in cui l'attività umana è assolutamente malvisto, comunque va fortemente regolamentata, non è così nei siti Natura 2000. Esistono delle regole ma l'obiettivo è la conservazione di specie habitat in armonia con lo sviluppo economico. Un altro dei motivi che ha reso purtroppo poco famosa la rete Natura 2000, come spiegherà poi dopo la collega Petiti del Ministero dell'Ambiente, è anche un processo di ricostruzione sicuramente complesso. Da una parte abbiamo le zone di protezione speciale che nascono dalla direttiva Uccelli. La direttiva Habitat ha prima proposto i SIC, che poi sono diventati siti di importanza comunitaria e che attualmente con molto ritardo sono diventate zone speciali di conservazione. ZAPS e zone speciali di conservazione costituiscono la rete Natura 2000. Ovviamente questo processo è nato su base europea attraverso l'individuazione di regioni biogeografiche, cioè ambiti caratterizzati da caratteristiche ecologiche omogenee. L'Europa ne ha individuate 11, ma quello che rende particolare ovviamente l'Italia è che nel territorio italiano sono comprese ben tre regioni biogeografiche, alpina, continentale e mediterranea, e è evidente che le misure di conservazione non possono essere omogenee per tutta l'Europa, men che meno per una regione, per una nazione come l'Italia che ne ospita ben tre. Zone di protezione speciale nascono nel 1979 con la direttiva Habitat, sono specificatamente dedicate alla protezione di uccelli, da cui il nome comune di direttiva uccelli come è conosciuta, sono designate direttamente dagli stati membri, quelle che vedete sono tutte le ZAPS, ma in Italia abbiamo ben 277 ZAPS terrestri, che si estendono per quasi 3 milioni di ettari. Altrettanto SIC, ZSC, che nascono nel 1992 dalla direttiva Habitat, ripeto, l'obiettivo è quello di assicurare uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie, per i quali ovviamente i siti sono stati designati, attraverso misure che una volta completata la rete saranno addirittura sito-specifiche, cioè si supererà il concetto di regione biogeografica, con misure sempre più vincolanti, ma soprattutto calate nella realtà. Abbiamo attualmente circa 2.700 ZSC in Italia, con una superficie di quasi 6 milioni di ettari. Finita questa introduzione, entriamo nel vivo del progetto. Quasi tutti voi saprete che qualunque progetto live richiede la predisposizione di una serie di azioni. Ovviamente quelle che a noi interessa raccontare qua sono le azioni che vedete segnate in blu. L'ISPRA in questo progetto è capofila, quindi è ovviamente presente in tutte le azioni. Poi i vari partner che seguiranno il mio intervento sono ognuno responsabile di azioni specifiche. Ma l'azione in cui noi siamo proprio direttamente coinvolti è la B1, connessioni ciclistiche per la promozione e la conservazione della natura. Connessioni ciclistiche significa innanzitutto selezionare le regioni. Non si può pensare nell'ambito di un progetto live di girare tutta l'Italia. E quindi il primo interrogativo che ci siamo posti è come selezionare le regioni. È venuto quasi naturale selezionare quelle sette regioni rappresentative delle diverse realtà biogeografiche presenti sul territorio. Vedete il Piemonte che ovviamente rappresenta la parte nord-orientale, il Friuli la nord-orientale, Lazio e Umbria per il centro, Puglia per il sud, Sicilia e Sardegna per le isole maggiori. Tra l'altro il calcolo della superficie totale dei siti Natura 2000 presenti in questa regione ci ha anche confortato nella scelta perché come vedete rappresentano il 58% dell'intera superficie di rete Natura 2000 nazionale. Quindi è una scelta abbastanza rappresentativa. Abbiamo poi dovuto caratterizzarli dal punto di vista naturalistico. E per far questo ci siamo appoggiati a un prodotto consolidato che l'ISPRA fin dal 1991 con la legge quadro delle aree protette ha messo in campo, cioè Carta della Natura e un applicativo che è la Carta Naturalistico-Culturale d'Italia che ci ha consentito di individuare prima il valore ecologico e poi il valore naturalistico-culturale per ciascuno dei siti Natura 2000. Vedete che ci sono cinque classi di valore naturalistico-culturale e nelle regioni selezionate troviamo sia realtà come l'Umbria in cui il valore molto alto è presente, sia regioni come la Sicilia in cui purtroppo il valore molto basso è altrettanto significativo. Ma noi questo non interessa perché la scelta di utilizzare il valore naturalistico-culturale per caratterizzarlo ci va bene sia ai fini della direttiva Habitat perché la direttiva Habitat chiede di salvaguardare quegli elementi del paesaggio tipo siepi, filari, che sono proprio funzionali alla struttura stessa della rete ecologica e per quello che riguarda il nostro progetto ci consentirà di sviluppare quei siti in cui magari un valore naturalistico molto basso ha bisogno di azioni di incentivazione economica sia nei valori con valore naturalistico molto alto può muovere ancora di più i siti stessi. Qui vedete una rappresentazione diciamo un po' meno astratta calata su Google Earth di quelli che sono i valori naturalisti e culturali per le prime regioni su cui noi abbiamo concentrato l'attenzione anche se purtroppo appunto la partenza sarà un po' ritardata però diciamo quello che noi stiamo raccontando qui è una metodologia di approccio al problema. Il secondo problema è stato il disegno delle tappe una volta caratterizzato ci siamo dovuti necessariamente dare delle regole le prime regole erano quelle di attraversare o lambire la maggior parte dei siti Natura 2000 effettuare la partenza di ogni tappa da istituti scolastici proprio in funzione di quello che è stato detto prima sull'importanza di educare i bambini soprattutto delle scuole primarie noi partiremo da centri spesso molto piccoli quindi siamo sicuri di trovare la scuola primaria i bambini della materna sono decisamente troppo piccoli per essere diciamo coinvolti ovviamente cercare il più possibile di far concidere l'arrivo di una tappa con la partenza per la tappa successiva per limitare al massimo gli spostamenti con mezzi diversi dalla bicicletta e soprattutto escludere i percorsi a pendenza eccessiva noi non abbiamo velleità agonistiche non facciamo il Giro d'Italia anche se i Giro d'Italia potrà, se ci vorranno aiutare nella promozione saremo contentissimi ma non è una gara noi vogliamo far conoscere i siti Natura 2000 alla popolazione quindi è inutile fare delle tappe che nessuno di noi un po' per età sarebbe in grado di leggere effettuare la tappa aperta alla cittadinanza in comuni non mi riferivo a te non la prendere sul personale appunto in comuni significativi per popolazione e soprattutto effettuare l'evento regionale il più possibile in capologhi regionali proprio per facilitare quel dialogo fra istituzioni e cittadini che auspichiamo sia possibile al momento quello che abbiamo disegnato sono i percorsi del centro quindi il primo percorso ci vedrà da Roma a Viterbo Orte-Perugia a Sisi-Rieti per concluderci, perché abbiamo poche manie di grandezza Colleferro-Campidoglio ci piace, potremmo mettere Roma ma Campidoglio però il problema serio che volevamo trasmettervi come gruppo scientifico è stato quello della divulgazione è un progetto di comunicazione e quindi la prima domanda è stata come trasformare le informazioni scientifiche dei siti della rete e del territorio in contenuti accessibili al pubblico come vedremo abbiamo costituito un gruppo di lavoro molto nutrito e perciò a corso settimanali stiamo cercando di trasmettere nel modo più divulgativo possibile informazioni relative alle caratteristiche naturalistiche ambientali, gestionali e culturali relative sicuramente nello specifico ai siti Natura 2000 ma all'area vasta perché per formazione, per cultura, come ISPRA, come istituto noi lavoriamo in modo multidisciplinare e vogliamo trasmettere un approccio multidisciplinare al territorio abbiamo preparato questo esempio l'Europa chiede la compilazione di formulari standard per ogni sito della rete Natura 2000 sia in fase di approvazione del sito sia periodicamente ogni sei anni chiede dei report e questi format vanno compilati se uno guarda l'indice tutto sommato dice vabbè ci sono delle informazioni che io posso capire se andiamo nel dettaglio delle informazioni ecologiche qui vedete le informazioni degli habitat quelle delle specie vi rendete conto da soli che questi nomi e queste sigle sono comprensibili a un pubblico non solo specialistico ma veramente dedicato a questo tipo di informazione se andiamo poi alla descrizione del sito che almeno dal nome dovrebbe facilitarci e andiamo un attimo a ingrandire io ho preso un sito a caso credo che sia il parco del Circeo ho segnalato alcune parole liassica, olocenica termofile, exerice, endemismi su endemismi ci possiamo anche arrivare ma specie alofile, foresta planiziale, entemofauna sono termini che per il cittadino comune non significano assolutamente niente e lo sforzo che noi stiamo facendo attraverso il gruppo di lavoro attraverso utilizzando delle schede in cui sono riportate per ogni sito non solo le caratteristiche diciamo standard ma quelle che sono le misure di conservazione famose, quelle specifiche che l'Europa ci chiede lo sforzo che stiamo chiedendo e al quale devo dire con piacere tutti gli esperti coinvolti stanno rispondendo in modo eccellente è quello di rendere il tutto divulgativo semplice, chiaro anche perché tutto andrà in un'applicazione quindi non si può pensare che in uno smartphone uno tiri fuori una scheda Natura 2000 con tutti quei termini poi lo spiegheranno per successivi approfondimenti chi vuole può approfondire ma il cittadino comune deve capire immediatamente di cosa si sta parlando quindi il lavoro degli esperti ambientali confluirà in una scheda al momento poi ovviamente come diceva prima il collega Ciccarese siamo in una fase ancora di partenza di avvio quindi suscettibile il miglioramento ci sarà una descrizione del percorso dal punto di vista fisiografico e naturalistico flora e fauna emergenze e minacce far capire al cittadino perché quel sito è stato istituito qual è l'emergenza di habitat di piante, di animali che ha bisogno di protezione e quali sono le minacce che incidono sullo stato di conservazione progetti e territorio diviso in due parti rete ecologica nella pianificazione territoriale rete natura 2000 è di per se stessa una rete ecologica progetti e territorio i progetti valutativi di piani e progetti crediamo molto nella divulgazione di procedimenti per noi tecnici ovvi valutazione ambientale strategica valutazione di impatto ambientale valutazione di incidenza non solo il cittadino non sa cosa sono ma non sa la cosa più importante che è prevista la sua partecipazione sono procedimenti complessi in cui c'è un momento in cui il cittadino può dire la sua e può dire la sua e deve sapere come, quando e come farlo nella paragrafo le deviazioni che vale la pena di fare proprio per un approccio che abbiamo istituzionalmente ampio al territorio confluiranno tutte quelle informazioni di tipo generico, specifico che riguardano siti non troppo lontani dai percorsi ma che il ciclista che vorrà seguire le orme solcate dai colleghi può essere interessato a fare come abbiamo accennato c'è parallelamente un gruppo di lavoro specificatamente dedicato alla divulgazione delle scuole che sta preparando giochi, mappe ovviamente forme di approccio più ludico e comunicativo per i bambini delle elementari abbiamo quindi chiaro quello che è l'obiettivo del nostro progetto per la parte B1 cioè, come dicevamo rete di connessione fra 170 siti Natura 2000, 6000 km raccolta di dati georeferenziati che andranno poi ad arricchire le schede e l'organizzazione dei percorsi regionali ne parleranno poi in modo più dettagliato i colleghi della FIAB sono organizzati in percorsi regionali percorsi regionali fatti da itinerari ciclistici organizzati in uno o due sembra una scatola cinese ma non è complicato il percorso setteminale sono quattro tappe dal martedì a giovedì destinato agli esperti ISPRA e colleghi FIAB e una tappa aperta alla cittadinanza in cui si spera che si possa imparare pedalando la tappa ciclistica giornaliera è tarata più o meno intorno ai 70 km si parte da una scuola elementare si raccolgono i dati territoriali si faranno interviste mirate alla raccolta di buone pratiche e alla mappatura della realtà imprenditoriale ma ne parlerà il partner che seguirà la tappa del sabato aperta alla cittadinanza evento regionale che cercheremo di far coincidere con la fine del percorso dove è possibile in cui ci sarà un dialogo fra cittadini e istituzioni un'ultima cosa che volevo sottolineare è un progetto fatto all'interno dell'ISPRA su base assolutamente volontaria non esiste una permanenza scientifica nessuno ha il potere di dire io so più degli altri siamo tutti colleghi pari grado al momento sono coinvolti 67 colleghi e 28 strutture dell'istituto proprio perché crediamo in una partecipazione assolutamente multidisciplinare non vi leggo lo vedete da solo quanti esperti ambientali, ciclisti quanti colleghi sono coinvolti e il responsabile del progetto che è Matteo Lenner e il coordinatore degli aspetti ambientali che sono io sono semplicemente funzionali al funzionamento di un progetto che ha bisogno necessariamente di un coordinamento non crediamo nelle gerarchie siamo aperti alla collaborazione di tutti inquadrata ovviamente negli schemi che stiamo predisponendo e permettetemi di chiudere la presentazione con un simpatico saluto da parte del nostro coordinatore che già si sta allenando perché è molto bravo nei pressi dell'ISPRA e di un altro ciclista esperto ambientale che sta in settimana bianca ma noi vogliamo bene lo stesso sovinti Grazie.